e con questo concluso anche il calendario del sushi e qui ho bentornati ragazzi eccoci qua siamo qui con la creale tk1 andiamo a vedere come mi sono trovato ma tutte sui calendari a parte dai non è che mi sia trovato effettivamente ma nel senso che qualche bestemmietta me l'ha fatta tirare però tutto sommato non posso dire assolutamente che sia una cattiva macchina anzi quindi per chi si sta guardando il video non vuole vederselo tutto e mi chiede te la consiglio si te la consiglio così non ti guardi neanche tutto il video e sei a posto molto buona c'è anche tanto da dire allora k1 c'ho questa piccolina ma c'è anche la max che devo ancora in realtà accendere però praticamente uguale quindi cambiano solamente le dimensioni questa qual piatto da 220x220 la max è un 300x300x300 molto interessante rapporto volume il volume prezzo è uscita anche la k1c lo so che me lo chiederete lo analizzerò anche nel video nel senso farò vedere le differenze della k1 rispetto alla k1c e alla fine se conviene prendere una o l'altra nonostante non l'abbia provata ma vabbè è sempre la stessa macchina alla fine k1c k1 non andiamo distanti hanno presente la k1c praticamente la c sta per carbon perché gli hanno messo gli ingranaggi per stampare i materiali caricati ma in realtà la c per me potevano cambiarla in mr k1 mr perché è la k1 meno rogne quindi semplicemente l'evoluzione di questa con tutto quello che vi dirò in questo video quando è uscita la k1 la prima k1 uscito aprile 2023 indicativamente come palesissima risposta a le bambula è inutile che ci giriamo tanto attorno paragone sarà diretto con la p1p perché a sua volta bambula poi ha fatto uscire la p1p in risposta a lei per un discorso di prezzo e tutto quindi classico botta risposta ce l'aspettavamo tutti da creality e in un primo periodo devo dire che creality non se l'è vista bene con queste macchinine qui però dopo tutto sommato visto il prezzo visto tutto si sono comunque inserite nel mercato ovvio che personalmente bambula si vede essere uno step superiore però non sono assolutamente da buttare via soprattutto per il prezzo perché sta signorina qui stiamo sotto i 400 euro e adesso che è uscita la k1c vedrete che questa qui verrà verrà lanciata abbastanza e non è da buttare via nonostante sia il vecchio modello passiamo all'analisi tecnica della macchina come mi sono trovato e tutto non ci ho stampato tantissimo ma ci ho perso tanto tempo nello smontarla l'ho rivista l'ho fabbricato chi è patrons grazie patrons vi voglio tanto bene loro hanno seguito tutta quanta la mia trafila tutte quante le mie bestemmie tutto quanto quello che è andato dietro e quindi li ringrazio tantissimo se non sapete che cos'è patreon qui in alto vi compare il link andate a vedere ci sono un po di esclusive un po di anteprime che rilascio prima delle delle recensioni anche pensieri che in genere magari non vengono fuori durante i video perché sono lunghi da spiegare comunque dategli un'occhiata per eventualmente supportare il canale grazie patrons a livello estetico ve la dico già subito mi piacciono più del bambù ma questo è parere puramente personale mi piacciono di più stop non che siano fatte male però rispetto a una cd questa centovina volte meglio quindi si presenta davvero molto bene sia questa che la k1 max quella grande l'unica differenza è relativa al coperchio qui che nella max è praticamente in in vetro però la macchina sostanzialmente quella un po più grande diversamente rispetto ad esempio cd bambu lab qui che cosa abbiamo praticamente il telaio della macchina è questa qua cioè queste cosine qui che vedete grigie questi montanti sono il telaio diversamente da bambù dove c'è praticamente il telaio interno coperto da una scocca qui in realtà la scocca sono questi pannellini in policarbonato e una portellina in vetro occhio nella k1 che questa qui vola via e si spacca in tre nanosecondi se magari la inclinate male tutto infatti nella k1c la prima roba che hanno modificato è stata a fare una porta che rimanesse in sede quando la private quando aprite e quindi se per il resto ripeto finiture devo dire molto buone per una creality che considerate che ha sempre fatto macchine aperte la creality principalmente tranne la sermon prova vera più plasticone questa qui bella quindi si presenta molto bene bella le finiture peccato per queste qui relative al che si chiama queste spese che ci sono qui sotto alla allo schermo ma beh bisogna bisogna pure aprirlo questa portellina qui senza queste spese non si aprirebbe proprio il resto devo dire devo segnalare che problematiche non ce ne sono come dicevo prima i materiali sono misto vitro plastica e credo sia metallazzo questo non ho idea di quale di che cosa sia presumo sia acciaio molto probabilmente e non vibrano se non la porta la porta vibra un pochettino durante alcune stampe durante le calibrazioni proprio il resto devo dire passaggio cavi e tutto quanto è fatto molto bene bella curata all'interno quindi non vedete niente assolutamente l'unica cosa stare un po' attenti la catena porta cavi in alto lo spiegherò più tardi purtroppo in certi movimenti tocca e quindi insomma vi alza il coperchio e non è non è il massimo ok nella k1 ci hanno risolto questo problema parlando di movimentazione allora asse z classico tra punto classico in realtà vedrete che buona parte delle soluzioni sono copiate dalla grande b ok quindi piano z su tre barre trapezie con un unico motore e una cinghia di colonizzazione soluzione che in realtà stanno utilizzando anche tanti altri che in realtà in passato era già stata utilizzata mentre per l'xy solita configurazione di tipo core xy barre da 8 per la y bar da 10 per la x la y corre su cuscinetti a sfere mentre la x corre su quelle cacchio di boccole autolubrificanti con inserti in grafite si l'ho aperta l'ho smudellata perché volevo capire il perché di quel benedetto problema che vi parlerò dopo in fondo è risaputo che questa macchina ha dei problemi relativi alla vibrazione nell'asse x però posso dirvi che non è l'unica che ha questo tipo di problematica ok lei un po più evidente rispetto ad altri però anche le bambule ce le hanno basta andare a scavare un pochettino nei gruppi e vedrete che anche le loro stampe vibrano purtroppo quando tutto è legato a processi di compensazione di vibrazioni algoritmi di calcolo eccetera eccetera se la cosa non viene fatta bene e la macchina non è in ordine vedasi lubrificazione o pulizia delle barre e non si va tanto distanti quindi movimentazione classica xy core xy cinghie 6 mm della gates evitate di fare la modifica 8 come ho visto in alcuni forum non vi fa un cambio a una sega e per il resto non c'è nulla da segnalare motori in ema 17 per gli xy sono sovradimensionati infatti nella k1 ci li hanno ridotti così come la pulleggia che vedete che è forse la parte che rompe un po più le scatole con determinate vibrazioni e però in realtà ripeto la macchina va comunque bene la stampante dispone anche di un sensore della temperatura della camera interno per quanto non sia riscaldata la camera e esiste anche una ventola di estrazione dell'aria che inizialmente non c'era questa gestione della temperatura con la ventola di estrazione essendo gli ultimi firmware hanno corretto e quindi funziona correttamente la potete gestire anche da gcode ripeto il volume di stampa della piccola è un 220 220 250 in altezza millimetri la max invece è un due è un 300 300 300 la k1c tale quale identica sulla ventolina di estrazione fumi invece la k1c monta già un piccolissimo filtrino a carboni attivi così come la k1 max ce l'ha la k1 invece ha una ventola che esce direttamente vabbè applicagliene uno non ci si mette tanto piano di stampa allora classico pianetto magnetico con superficie in pay liscia non è texturizzata come vedete le altre parti ma in realtà esistono piani di ricambio a iosa quindi li trovate ovunque non è double face quindi avete semplicemente una superficie sotto c'è un pad magnetico e per quanto riguarda l'autolivellamento abbiamo le celle di carico mi ricorda qualcuno ok invece di averne tre in questo caso ne abbiamo 4 devo dire che il rilevamento tutto sommato è fatto bene perché nel senso il nozzle l'ugello tocca il piano in vari punti e quindi vi crea praticamente la mesh di livellamento del piano la potete anche tra l'altro visualizzare all'interno dell'interfaccia web ed è qui il primo il primo scoglio che in molti hanno il primo scoglio primo primo difetto che in molti hanno evidenziato ricordatevi che quando è possibile vedere una mesh di rivelamento è possibile anche vedere se il piano è messo giù storto ricordatevi le bambulab non hanno questo tipo di visualizzazione e quindi in molti hanno riscontrato solamente magari i piani concavi o conversi ma non hanno mai visto se era messo in bolla o meno bolla scusate il termine se era inclinato rispetto all'asse x y ecco in molti si sono lamentati del fatto che alcuni punti di attacco dato che ne ha tre di punti di attacco uno su ogni barra in un punto effettivamente anch'io ho riscontrato che il mio piano era tutto tutto storto storto non è che era storto era semplicemente le barre erano due barre erano un po più basse rispetto all'altra allora in rete esistono mille milioni di possibilità di girare di far brigare allora c'è il metodo che consiglia creality di mollare la cinghia sotto e di sistemare le cinghie dopo sincronizzare vi lascio tutto quanto in descrizione perché è inutile che ve lo spiego in questo video io alla fine ho provato con le mollando le pulegge ho spanato tutto ho fatto un disastro alla fine sono riuscito a risolvere il piano tutto sommato è venuto fuori bene cioè è abbastanza dritto e la cosa più semplice è stampare gli spessori mettete due tre spessori dove vi servono e tanti saluti meglio ancora sarebbe fare la modifica con le molle cioè si tolgono le viti fisse e si mettono le viti dove ci sono le celle di carico con le molle e sotto le classiche farfalline vecchio stile o monopoline e risolvete definitivamente il problema sulla k1 vanno fatti i fori nel bed magnetico nella k1 max invece le viti sono già esposte quindi poca roba descrizione trovate tutti i link per questo tipo di risoluzione del problema e risoluzione del problema ve lo dico anche con un millimetro e mezzo che mi erano riscontrato io all'inizio lei stampava tranquillamente assolutamente sempre in termine al livellamento sapete che se l'ugello deve diciamo tastare passatemi il termine deve essere ben pulito e cosa farà mai a pulirsi in fondo ricordate chi è che lo fa sì lei la grande b nella k1c hanno messo una semplice striscetta di gomma bella bella ci voleva tanto fare una cosina del genere per pulire bene l'ugello ecco quella lì la k1c c'è solamente quella modifica lì relativa al piano e il piano della k1c nuovo invece ha credo ma non ho ancora trovato notizie se qualcuno me lo commenta qui sotto nei commenti commenta nei commenti e mi dice se effettivamente così perché ho guardato diversi video ma non ho trovato riscontro dovrebbe avere già le molle di regolazione del piano dovrebbe dico dovrebbe perché è cambiato anche il piano vedete il piano è invece che essere diritto hanno fatto un presidente una lamiera piegata per irrobustirlo e tutto non ho idea di cosa nasconda là sotto k1 max invece è identica solamente più grande per quanto riguarda l'uniformità di riscaldamento del piano non ho nulla da dire ho provato con varie temperature e tutto e devo dire che si insomma si si comporta davvero bene mi sa un grado un grado e mezzo tra il punto più diciamo punto centrale punto esterno non ho trovato spot più caldo più freddi e per quanto riguarda invece l'uniformità di livellamento sulle varie temperature vale sempre la stessa regola se stampate a 100 gradi non tenete la diciamo la mesh di livellamento di quella che fate a 60 gradi ma questo vale per tutte le stampanti per quanto riguarda invece l'alimentazione del piano è curioso k1 e k1c montano un piano a 24 volte quindi l'alimentatore della stampante è 350 watt indicativamente e il piano si riscalda diciamo il piano ci ha circa 250 watt 80 indicativamente la invece k1 max monta uno di quelli di tipo ac quindi la k1 e k1c montano i direct current mentre la k1 max monta quello a 220 ok quindi si riscalda un po più velocemente è un po più grande la superficie di stampa è ottima per pla e petg classiche t più attenzione che come al solito nel pay aderisce anche troppo abs va bene ovviamente se andate su nylon o cose un po più particolari cambiate mettete pianeti fissi ad esempio io ho messo un pianeto in vetro anche per stampare il pc pbt che tende a vorpare molto il lamierino di questo di questo pianeto magnetico flessibile è un po un po sottile quindi occhio coi materiali che tendono a tirare mettete piani rigidi piani in acciaio piani in carbonio quello che volete passiamo alla parte relativa il cuore quindi dove si estrude il materiale la testa dove robella compatta anche qui due vitine si stacca la cover frontale dove c'è una ventola ventola 40 20 che raffredda davvero bene quindi persino troppo ok dopo mi spiegherò quando parlerò delle ventole e canalizzata su tre tre punti quindi tre vie e dopo dietro che cosa troviamo troviamo praticamente tutto il cuore dell'estrusione che cosa c'abbiamo una schedina una schedina sandwich praticamente che ha dentro un paio di mcu un paio di microcontrollori la gestione della temperatura il motore c'è anche il driver c'è un tmc 2209 integrato quindi unico cavo che arriva comunicazione di tipo canvas e anche ovviamente c'è l'accelerometro importantissimo perché per tutta quanta la regolazione dell'input shaping si utilizza l'accelerometro integrato dietro tolta la schedina che cosa c'è c'è l'hotend l'hotend composto nella più classica delle delle soluzioni da dissipatore parte alta e sotto abbiamo molto simile alla cd un praticamente un riscaldatore di tipo ceramico quindi bello bello che avvolge il nozzle l'ugello di tipo volcano e di quelli lunghi ci vanno su anche quelli della v400 per intenderci l'ugello tipo standard quindi non è cht alto flusso cose del genere ed è in ottone io pensavo fosse in rame scusatemi pensavo fosse in ottone in realtà ho letto che è in lega in lega di rame e la k1 max invece ha anche un un hotend differente che è lo stesso ma con la puntina in acciaio quindi è rame con la puntina puntina in acciaio per stampare che cosa i materiali caricati devo dire è fatto molto bene la gola che mi è arrivata vedete questa qui non è la primissima gola che montava la macchina perché aveva le primissime versioni aveva una gola che tendeva a far bloccare i filamenti queste nuove v2 che hanno il calzino silicone rosso sono quelle aggiornate è in rame titanio quindi la zona di taglio termico è in titanio e devo dire che da mie rilevazioni si comporta davvero bene tra l'altro rispetto alla concorrenza è 2 mm in più 2.5 mm in più lunga e questo vedrete poi dopo nella parte relativa alle prestazioni che effettivamente si comporta davvero bene è fatto bene l'unica rottura di palle grande come una casa è toglierla e metterlo e infatti cosa hanno fatto nella k1 ci hanno fatto uno tende di tipo smontaggio rapido tipo il revo della dell'e3d sì in effetti ripeto è fatto tanto bene quanto tanto rottura di scatola e andarlo a cambiare ok che non state lì a cambiarlo ogni giorno però sai te cambi dall'ugello in ottone o rame a quello in acciaio magari invece che sta lì a smontare mezza macchina mi piacerebbe fare proprio clac clac il feeder quindi questa piccolissima testolina di estrusione è bello fatto bene cioè ricorda moltissimo l'lgx la bontek quello light fatto davvero bene nel senso piccolo leggero doppia ruota godronata grande con sgancio rapido tra l'altro del filamento con la levettina fa clic clic tra l'altro anche qui segnalo che mi è arrivata la versione aggiornata lo riconoscete perché avete la levetta che intanto fa clic clic e la prima versione non faceva clic clic e si lanciava durante la stampa e soprattutto la riconoscete perché praticamente questo spessore dietro è di acciaio e non più in alluminio come nella prima era alluminio cromato quindi si vedeva proprio nettamente la differenza quindi un pelo più resistente e la componentistica interna vedete sono delle ruote godronate in acciaio grandi la dentatura invece del rapporto di riduzione e in questo caso qui è in plastica nella k1c quando hanno scritto è la k1c si chiama k1 carbon ecco perché anche qui hanno copiato il nome carbon perché è fatta per stampare i materiali caricati ancora sì la k1 li stampa tranquillamente non c'è problema è che se uno sta lì h24 e tutti i giorni stampa solo caricati ovvio che lì dentro si va a creare un po di polverina e ti va a mangiare fuori eventualmente gli ingranaggetti le ruote dentate in plastica qui le hanno messe in acciaio nella k1c le hanno messe in acciaio nella k1 avete queste qua in plastica per il resto la canalizzazione del filo è fatta molto bene anche per chi stampa il tpu perché cono contro cono sono davvero vicini quindi provato a spararlo veloce il tpu effettivamente non si è piantato e dopo avete la possibilità di come ho detto prima di sganciare e riagganciare il filo eventualmente quando dovete fare un cold pool o come magari si è piantato il filo dovete tirarlo che se si è inglobato in mezzo alle ruote coronate ad ogni modo la manutenzione del feeder è veloce tra tre viti e viene via il motore nema 14 ormai ogni presente ovunque diametro 36 mm e poco sopra di esso c'è una piccola scocchetta che insomma chiude tutto e bene una roba che non mi è piaciuta tantissimo l'ho già accennata prima è relativa alla catena porta cavi che come ho detto prima in alcuni movimenti quando si sposta in basso a sinistra tocca e alza il coperchio però piuttosto che questa che va beh è più una rottura di scatole che insomma fa un po di rumore ogni tanto va beh è il tubicino in teflon quello che porta il filo ecco questo qui fa una curvetta 90 gradi che non è tanto bella cioè crea molta frizione molta frizione nel filamento se lo provate a girare cioè provate a tirarlo sentite che fa molta frizione ok che il motore tira bene cioè i due ingranagetti tirano bene effettivamente quindi non ho riscontrato problematiche sì se fosse stata una canalizzazione migliore tanto meglio sui materiali rigidi quelli specialmente caricati attenzione perché quando fanno curve molto strette i materiali caricati si spezzano quindi già quando arrivate dentro in testa potrebbero spezzarsi prima dopo l'arogno più grande in realtà oltre a questa la vedrei con i materiali tpu materiali morbidi materiali morbidi hanno bisogno della miglior scorrevolezza possibile all'interno del caricamento perché se non c'è se già li iniziano a tirare si stirano ecco lì è un po è un po un problema quindi per chi stampa tpu molto molto morbidi è da andare a risolvere quel problema lì cosa che hanno parzialmente risolto nella k1c parzialmente iniziamo a parlare dell'elettronica eccoci qua loro pubblicizzano creality os come firmware installato in realtà è clipper quindi non è che si facciano neanche loro tanta non è che si nascondono dietro un dito però vabbè loro l'hanno rinominato creality os ma dietro c'è a tutti gli effetti clipper clipper che in una prima fase non vedete nel senso che la macchina si raggiunge o tramite lcd insomma molto comodo fatto bene oppure tramite interfaccia web ma l'interfaccia web perché lei si connette con wifi oppure ethernet la k1 max è l'interfaccia limitata perché ti fa mandare in stampa i pezzi e guardare la webcam se è installata la webcam e eventualmente controllare il livellamento del piano stop quindi di clipper non avete traccia se volete sbloccarla al di là del fatto che vi consiglio di guardare la live che farò tra un paio di settimane dedicata come sbloccarla in realtà la macchina è già sbloccata cioè gli ultimi firmware arrivano già con la possibilità di avere il root di oggi è il breccato la macchina no niente vi danno semplicemente la possibilità di collegarvi in ssh che si poteva fare anche prima dei firmware ufficiali ultimi usciti con questa funzionalità collegati in ssh e potete installare fluid mainsail come interfacce di comunicazione con clipper e dopo da lì fate quello che volete però non ve lo spiego oggi ve lo spiegherò nella live dedicata per quanto riguarda la potenza di calcolo c'è un processore da 1.2 ghz con 256 megabyte di ram e 8 giga di spazio interni quindi potete caricare file gcode a nastro tanto ora di saturare 8 giga ce ne volete e poi per quanto riguarda la gestione dei motori c'è una una mcu a parte quindi una è gestita una gestisce praticamente clipper input shaping e tutto e l'altra il controllo dei motori poi in realtà ci sono altre microcontrollori sparsi in giro anche nella testa di di estrusione è abbastanza complessa però è proprietaria e ricordatevi gira clipper per quanto riguarda invece la sensoristica in generale ecco anche qui non trovate più i sensori di fine corsa quindi x y e z perché per la z ci sono le celle di carico x y utilizzano invece il la funzione sensorless dei tmc 2209 quindi tutti e quattro i driver 3 più 1 in testa sono 2209 della tmc tutti quanti controllabili eventualmente da gcode clipper e tutte quante quelle belle menate lì e dopo un sensore di filamento che è posto dietro la stampante e nella k1 in realtà è dentro quindi c'è anche il sensore di fine filo della stampa ma è un classico c'è non c'è bello 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 invece lo schermo quindi schermo da 4 3 4.3 pollici touchscreen e con una loro interfaccia che si che comunica praticamente con clipper devo dire che su questa per quanto io abbia provato guppi che chi già smanetta sa cos'è guppi è un'interfaccia alternativa con tutti i parametri sbloccati devo dire che alla fine l'ho provata ma sono ritornato all'originale perché perché semplice veloce c'ha pochi parametri e quelli che mi servono mandare in stampa vedere la temperatura e basta non è che devo farci tanto a bordo macchina quando devo smanettare con clipper alla fine io che cosa faccio apro l'interfaccia web web main sail o fluid e faccio tutto da lì o da riga di comando fare le stesse cose da riga di comando dal touch no non mi va bene ecco l'unica cosa di cupi è figa perché ti fa vedere i grafici della vibrazione tutto direttamente sullo schermo senza doverti collegare ma in realtà posso dirvi lo schermo così va bene non devo dire proprio assolutamente nulla tra l'altro nelle ultime gli ultimi aggiornamenti hanno anche messo la possibilità di regolare lo z offset durante la stampa si pareva una stronzata però chi doveva voleva voleva farlo in live doveva farlo o da interfaccia web oppure da lcd non era possibile comunque inserirlo per il resto nulla da segnalare come si connette la macchina wifi ethernet solo la k1 max e poi eventualmente c'è una piccola usb davanti per chi magari vuole o installare gli aggiornamenti oppure mettere direttamente i gcode dalla chiavetta poi per il resto avrebbe anche un suo cloud perché dice ma mi interessa c'è il cloud e la bambola c'è il cloud di qua di là sì anche questa ce l'ha non l'ho ancora provato c'è il creality cloud che si connette al suo creality print che è lo slicer di creality posso dirvelo non li ho ancora provati quindi non mi espongo non dico niente però sapete che avete anche la app per controllarla da remoto tranquillamente l'unica cosa è che la k1 arriva senza la webcam installata c'è uno spinottino basta comprare quella di creality e la si attacca non si possono attaccare telecamerine webcam usb come magari la cd o altri stampanti e per quanto riguarda invece la k1 max e la k1 c arrivano già con la camerina installata serve per principalmente l'ho detto il controllo da remoto ma avrebbe in realtà anche la possibilità di utilizzare il funzionamento diciamo di riconoscimento di intelligenza artificiale di vabbè insomma quando si sminchia la stampa vi avvisa e guarda che la stampante sta facendo disastro ti blocco la stampa ti mando un avviso e tutto quindi lo spaghetti detection ce l'avrebbe anche lei non ho ancora provato perché voi già sapete che con le bambula quelle funzionalità le tengo spente perché mi rompono le palle più che altro però potrebbe essere spunto per un prossimo video confrontare una con l'altra come si comportano in generale dei falsi avvisi vedere come si comportano fatemi sapere nei commenti se vi potrebbe piacere un video del genere poi l'altra cosa che non ho menzionato relativamente al lidar il sensore quello che lo scannerino che rileva le linee depositate per controllare il primo strato per controllare il flusso il flusso dinamico il flusso assoluto quindi il pressure advance come volete chiamare tutte queste manate qui che ho anche disattivato nella nella bambula ma che potrei ritornare ad attivarlo per un discorso di calibrazione di flusso assoluta che non è male l'ho provato una volta devo dire non è male e anche questa non la k1 ma la k1 max ha il lidar la k1c non ha il lidar cosa che all'inizio pensavo avesse in realtà non ce l'ha quindi k1 k1c sono come avete vedete uguali è solamente una versione un po più aggiornata ma neanche tanto quindi k1 max è l'unica che c'ha il lidar rumorosità madonna o ragazzi è solo un po' più aggiornata ma neanche anche 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 un po' più aggiornata ma neanche è la follia cioè questa qui io all'inizio mi lamentavo della Bambu che era rumorosa sì, è rumorosa, tanto rumorosa la Cd era ancora più rumorosa ma qui siamo ancora oltre sono quasi arrivato a 70 decibel cioè con tutte le ventole attive questa qui, vi giuro, non riuscivo a tenerla in scrivania al di là del fatto che uno non se la deve tenere in scrivania di fianco a dove lavora però io per una questione di test stavo facendo un paio di prove non è che me la mettevo giù dove sono adesso avevo balle di fare su e giù ogni 3x2 di un certo punto ho dovuto spegnerla e portarla giù perché non ne potevo più, cioè era da veramente avere le cuffie in realtà ventole sì, come al solito ne ha tante c'è il classico ventolozzo laterale quello che spara e spara tanto tantissimo, tanto che in una stampa addirittura non riuscivo a capire perché per come venisse fuori male vado a vedere eh ma mi vibra l'asse, mi vibra l'asse no, non vibrava l'asse c'era troppa aria che veniva fuori quindi questo ventone laterale qua tenetelo tranquillamente al 50% che per il PLA quando viaggiate a 300-350 mm al secondo è più che sufficiente metterlo al 100 è pure troppo non è una critica nel senso che più ce n'è, meglio è basta saperlo nel senso che sia la testa sopra che il ventone laterale cacciano giù aria tanta aria ed è tra l'altro bella cioè prende tutto il piano veramente quindi davvero molto bene sotto il profilo di ventilazione non tanto sotto il profilo della rumorosità quella che fa più baccano di tutte è quella della testa la 40-20 in testa fa rumore ma proprio folle tra l'altro vibra anche ho constatato che la vibrazione non rompe le scatole alla stampa quindi non vibra il pezzo guardato grafici guardato tutto però rompe le scatole cioè mi rompe le palle effettivamente tenetela un po' più bassa e eventualmente fate delle prove poi dopo c'è una ventola dietro lo tend che è sul dissipatore ma quella non la sentite c'è una ventola sotto dove c'è praticamente l'elettronica ma anche quella lì non la sentite e con gli ultimi aggiornamenti si accende e si spegne a determinate temperature che tra l'altro io le ho impostate da clipper direttamente a 30 gradi piuttosto che 50 gradi che magari si surriscaldava troppo la MCU e dopo ce n'è una di estrazione che non è né troppo silent né troppo baccanosa è la giusta via di mezzo non è silente ok quando voi abilitate magari la velocità quiet cioè la velocità super fast la velocità quiet ecco non fa altro che abbassare le ventole e diciamo ridurre la velocità di stampa quindi sì occhio non pensate minimamente di tenerla in casa in camera e anche se avete un luogo dedicato che sia distante da dove lavorate perché fa veramente caos poi sì vibra vibra nel senso ballano ma tutte queste stampanti quando iniziano a shakerare ecco a un certo punto in un momento mi portava fuori il mobiletto su cui l'avevo messa però devo dire che ricordatevi che come ho sempre detto quando si parla di vibrazioni fa molto anche dove la fate stampare perché se avete un mobiletto che è tutto è ovviamente per quanto abbia gli algoritmi di diciamo di attenuazione insomma diamogliela una mano ok quindi mettetela su piani belli stabili e occhio quando ne avete magari 4-5 una dietro l'altra che una non influenzi quell'altra parliamo di consumi e prestazioni allora consumi la faccio breve ho provato solamente la K1 perché la K1 Max devo ancora accenderla effettivamente allora la K1 25-27 W di base dopo durante la stampa 100-110 W indicativamente e 350 di picco proprio proprio tutto l'alimentatore ovvio che queste cose qui dipendono molto dall'ambiente in cui siete dalla temperatura ambientale la mia è 21 gradi in questo momento 22 adesso non mi ricordo quando ho fatto i test magari d'estate si consuma meno parliamo invece delle prestazioni cioè come mi sono trovato con questa macchina in termini proprio prestazionali allora l'avevo fatto vedere prima il grafico del taglio termico quei 2.5 mm in più rispetto alle altre che ho provato devo dire che ok che nel sito loro dichiarano quanto 32 mm cubi al secondo di portata volumetrica dello Tend però vabbè ci sono arrivato vicino non dico 32 30 quasi quasi li prende ma è impiccata però 28 li tiene 28 li tiene tranquillamente questo si traduce in che cosa in velocità di stampa effettive effettive di 350 mm al secondo cioè tutte le le cose che vedete qui che ho fatto con il PLA e solo col PLA purtroppo perché ad oggi c'è PLA ABS e il nuovo PETG di Trid che supportano velocità cazzute tutto il resto quello che vedete il PCPBTGF il nylon carbon e quelle cose là le ho stampate 150 100 200 mm al secondo massimo perché ripeto lo Tend vi ho fatto vedere con un PLA giusto sia il mio PLA classic help 3D che il PLA Creality high speed hanno raggiunto i 28 mm cubi al secondo senza batterciglio devo dire molto molto buono anche rispetto a magari una V400 che però la V400 ricordate montava un nozzle un ugello di tipo CHT alto flusso quindi se proprio volete valutare un upgrade ma anche qui prendetelo con le pinze perché già così è più che sufficiente mettete un CHT e si può arrivare secondo me senza grossissimi problemi anche a 380 400 ovvio che la limitante dopo è le accelerazioni accelerazioni vi consiglio di non andare oltre i 10.000 le 10.000 millimetri al secondo quadrato io stampo tra gli 8 e i 10.000 Creality dichiara 20.000 certo si può fare tutto sulla carta anche i 600 millimetri al secondo che loro dichiarano certo li prende io in spostamento a vuoto gli faccio fare 500 o 550 millimetri al secondo il problema è durante la stampa è tutto un altro discorso l'unico materiale che mi ha dato un po' di noie ancora sto cercando di venirne fuori un pochettino è il TPU TPU nel senso non che non riesca a gestirlo bene di caricamento come ho detto prima il feeder è fatto bene in quanto lo stringing in realtà ho visto che anche altri hanno avuto questo problema e presumo dipenda dalla lunghezza magari della melt zone della zona di diffusione non ho idea non ci ho ancora investito tanto tempo dietro questo materiale ho stampato più materiali rigidi però secondo me avrebbe senso sbatterci un pochettino la testa perché potrebbe avere delle potenzialità nel senso lo tende estrude tranquillamente il TPU non ho estruso il 70A però l'80 e il 95A me li ha tirati fuori senza grossi problemi quindi vi lascio punticino in sospeso su questo materiale qui passo alle conclusioni e dopo vi faccio una piccola postilla dopo le conclusioni quindi conclusione qual è Pirates me la consigli? ma ti direi assolutamente sì assolutamente sì prendiamo come cioè nel senso perché te la consiglio a chi la consiglio al novizio certo cioè out of the box quindi ti arriva la metti e stampi devo dire che fa nel senso io io l'ho affrontata in maniera diversa nel senso che appena mi è arrivata neanche l'ho accesa che l'avevo smontata quindi la cosiddetta out of the box non l'ho provata veramente salvo poi dopo aver sistemato un po' di rotture di palle e tutto quanto ho resettato tutto e ho detto ok mi metto nei panni di chi la riceve per la prima volta il processo è davvero semplice impostazioni veloci ti fa caricare il filo hai già dei file caricati pronti e metti in stampa adesso ad esempio io utilizzo Orca Slicer ho i miei profili di stampa per questa macchina ma ci sono già anche quelli precaricati su Orca Slicer potete utilizzare anche Prusa Slicer potete utilizzare anche Bamboo Studio quello che volete Creality Print quello suo che ha già i profili tutti quanti definiti la macchina secondo me ha tutte le premesse per poter dire vado e stampo anche per chi è a zero conoscenza quindi non c'è niente da fare smontare tre viti metterla sì perché sono i viti di fissaggio per il resto me la sento assolutamente di consigliarla ma me la sento di consigliarla di più a chi è un po' più smanettone per qual motivo Bamboo Lab ne ho due lo sapete ne ho due di là sono belle funzionano vanno vanno cioè è in dubbio come ho detto all'inizio del video la superiorità di Bamboo Lab è superiore non tanto nella qualità di stampa perché quello che è tirato fuori da questa è assolutamente paragonabile se non dico superiore in alcuni casi a Bamboo Lab ma in realtà sono là ragazzi dai se la fate puramente di qualità di stampa e velocità di stampa siamo lì tranquillamente tutto quello che fa la differenza è il contorno e tutto quanto l'app dedicata il maker world ok che loro hanno anche loro la loro repository di Creality e tutto però quella di Bamboo Lab è fatta meglio stop non ve la faccio non ve la meno tanto lunga questo non vuol dire che il prodotto sia scadente però ok e Bamboo Lab però ha dalla sua la gestione dell'AMS quella lì al momento è incontrastata da nessuno quindi se voi cercate delle stampe multicolore non c'è tanta scelta ad oggi con chi la confronti questa macchina qui questa macchina la confronti con la P1P perché la P1P di Bamboo Lab è uscita secca per andargli a rupere le palle a questa perché l'unica carta che ha Creality per giocarsela con la Bamboo Lab oltre a fare una macchina che stampi oggettivamente e anche bene è giocarsela sul prezzo e infatti sono usciti con 400 euro adesso costa poco meno di 400 euro la piccola e poco meno di 800 la K1 Max la K1C costa ad oggi 4,50 4,80 costa un pelo di più però si insomma vale la pena prendere una K1C o una K1 se trovate una K1 in offerta accaparatela senza problemi se trovate la K1C in offerta prendete la K1C senza tanti problemi però come dicevo prima perché la consiglio lo smanettone perché qui è figata ragazzi ci mettete le mani con Clipper due secondi entrate fate il disastro disastro nel senso buono e nel senso cioè senso buono disastro perché uno può fare effettivamente disastro io ho sentito di gente che si è messa a usare il root e mettere in mano SSH e macro personalizzato e tutto e piantare la stampante quindi il senso di Bambulab e di Creality di avere macchine bloccate che non abbiano possibilità di spipolare e tutto ha senso perché l'utente medio non deve toccare quelle cose lì mentre questa qui rispetto a una Bambulab dove adesso è uscito l'X Plus One Team che ti dà accesso a determinati parametri e tutto ma comunque Bambulab gliela sta mettendo ecco cosa succede che con la K1 in realtà loro hanno detto ok fate il cazzo che volete ok quindi sì per me come smanettone l'ho apprezzato molto di più sicuramente quindi in soldoni se ti devo dire prendi la P1P o prendi la K1 ti dico se lo fai un fattore di prezzo questa vince c'è poco a fare intanto è più bella da vedere perché una P1P è un cesso è brutta da vedere prendi una X1 X1C cavagli tutto è brutta la X1 è molto bella la P1P non mi piace tu mi dici la P1S ok sì ma costa di più cioè ripeto se lo fate solo una questione di prezzo qui vinciamo se invece mi dite no ma voglio anche la MS ma ne voglio collegare 4 di MS ma voglio gestire tutta la roba con Bambulab oppure semplicemente Bambulab mi piace di più perché è la stampante che tira al momento prendete Bambulab basta questo è per dire che anche con stampanti non Bambulab si riesce a stampare ugualmente bene detto questo rogne e rumorosità a parte la stampante mi è piaciuta assolutamente perché rogne? ve l'ho parlato prima quella del piano facilmente risolvibile quella della X in realtà è sempre quella incognita che non riesci mai a capire addirittura è nato un gruppo su Facebook di utenti che si lamentano di questa problematica potrebbe nascere uno anche relativamente alla Bambula perché molti segnalano quella problematica lì però molti meno oggettivamente perché nasce tutto questo problema della VFA delle vibrazioni in X è perché semplicemente quando hanno previsto questo benedetto tipo di scorrimento con le boccole autolubrificate con gli inserti in grafite è loro per prima cosa sono andati a lubrificarle e lubrificarle non va bene non va bene perché dopo un po' piantano si piantano quindi c'è poca scorrevolezza del carrello XY Y no della parte X ho smontato tutta la macchina ho smontato le cinghie ho provato a capire quale fosse il problema alla fine semplicemente sono passato da un grafico di questo tipo che era schifoso il grafico delle rilevazioni delle vibrazioni che lo fate solo se avete sbloccato la macchina però è l'unico che vi dice effettivamente come sta ragionando la macchina e se le modifiche che fate hanno senso sono passato da questo grafico a quest'altro grafico decisamente più pulito solo come pulendo le barre quindi sgrassandole 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 e poi andando a capire le cinghie come fossero messe cioè dovete controllare che il gantry quindi il carrello XY sia effettivamente in squadra e poi che le cinghie siano tensionate giuste da una parte da un motore e dall'altro e anche tensionate correttamente quindi non troppo lasche tutte cose che ho fatto verificato con queste tool queste macro aggiuntive che ve le farò vedere in un video dedicato della live tra due settimane quindi cosa ho risolto alla fine la stampante stampava bene anche l'inizio ve lo dico stampava bene anche l'inizio ok aveva effettivamente un po' di risonanza alle basse velocità però non è che si siano risolte del tutto con questa pulizia e tutto si sono risolte quelle alle alte velocità fino a 350 tranquilla ma ho solo pulito pulito e basta c'è da valutare poi se togliere quelle benedette mollettine sono due mollettine che sono quelle che praticamente spingono sulla boccola ok quelle mollettine lì in alcuni casi potrebbero creare fastidio perché perché purtroppo visto che in realtà il problema di tutto oltre alle boccole eccetera eccetera è che probabilmente il gruppo dove si attacca il carrello potrebbe essere un po' storti in alcuni casi perché si vedono grafici bellissimi di queste macchine altri tipo il mio che non erano del tutto buoni e l'escorrimento non era perfetto perché perché probabilmente le sedi di queste boccole o sono spaccate perfette oppure se si puntano un attimo arrivederci non non scorre più l'asse ed è per quello che vengono fuori di quei grafici brutti e tutto quindi ecco occhio prima di sballare madonnare tutto limitatevi a pulire semplicemente le barre poi dopo ai patron ho fatto tutta una disamina lunghissima spiegato cosa ho fatto andatevi c'è un link qui sotto dove vi spiego cosa ho fatto per risolvere queste problematiche però principalmente ve le ho già spiegate ve le ho già spiegate quindi pulire mettere il gantry in allenamento pulire di nuovo pulire di nuovo e non ingrassare quell'asse X da valutare invece le molle occhio non toglietele a prescindere perché un minimo di gioco c'è però fate delle prove toglietele mettetele e vedete come si comporta effettivamente la stampante c'è anche poi da dire che i motori XY non sono sovradimensionati per quello che devono fare e anche le pulegge le hanno fatte più grandi del dovuto infatti se guardate la K1C queste cose le hanno cambiate immediatamente perché sì per quanto voi puliate gli assi e tutto verificate che non ci siano impedimenti e tutto potrebbero rimanere comunque delle vibrazioni alle basse velocità e quello è un problema tipicamente legato a che cosa a queste pulegge e a questi motori che potrebbero ripeto in alcuni casi dare delle vibrazioni solamente nell'asse X poi un'altra cosa che non mi è piaciuta tantissimo e che in realtà non è piaciuto a tanti ma si è scoperta solamente quando si è sbloccata la macchina è che i profili praticamente di scelta dell'algoritmo di smorzamento delle vibrazioni lei fa una rilevazione della Y ok trova la frequenza di risonanza la applica e sceglie a sua arbitrariamente che cosa il profilo di tipo EI che è un profilo sì molto molto conservativo nel senso che spiana molto eventuali vibrazioni però non è detto che sia il migliore tipo la Y nel mio caso è perfetta non ha senso senso andare a scegliere un EI di 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 algoritmo di smorzamento bastava un MZV oppure uno ZV e la cosa più brutta è che quella cosa lì lui prende quel valore che trova della Y e lo copia nella X quindi se la X ha quel grafico che vi ho fatto vedere prima completamente disastrato eh no non è quella la sua frequenza di smorzamento da smorzare quindi ecco forse anche parte dei problemi derivano dal fatto che non hanno né ancora diciamo anche con l'ultimo firmware che ho provato il punto 3 punto 5 vabbè insomma l'ultimo che è uscito qualche giorno fa non hanno ancora messo questa distinzione tra X e Y nella calibrazione lei quando tu gli dai dallo schermo ehi calibra direttamente lui prende la X e prende la Y e te la copia nella X quindi no tanto bene o meglio in alcuni casi funziona in altri potrebbe dare vibrazioni bene finita la maratona il video è lungo lo so lo so anche l'articolo è lungo è tutto vi aspetto al prossimo video tra due settimane la prima live dell'anno in realtà nella quale parlerò di come sbloccare come ho magari ho affrontato determinate problematiche con questa con questa macchina qui dell'asse X vi invito eventualmente andare a dare un'occhiata al canale Patreon oppure eventualmente offrimi una birra su Ko-fi per se magari ti sono piaciuti i video ti hanno dato una mano e tutto e direi che questa lunga lunga maratona ha termine in questo momento ti ringrazio vi ringrazio per aver visto il video e ci vediamo alla prossima ciao ragazzi ciao 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 ciao